Le iscrizioni sono aperte già da qualche giorno, adesso che mancano meno di 4 settimane al rally di Caltanissetta, all'evento fervono i preparativi. La partenza è prevista dal centro di Caltanissetta, esattamente dal Corso Umberto alle 17 e alle ore 18 scatterà la prima prova speciale denominata San Gataldo di 6 km che sarà ripetuta altre due volte. Le vetture faranno sosta per i riordini sempre in Corso Umberto. Domenica si riparte da Corso Vittoria Emanuele alle 10 con arrivo previsto ancora in Corso Vittoria Emanuele alle 18 e 15. Grazie.